Buongiorno e buonasera, qui Shado Yoshi e siamo su una nuova puntata di Banzai My Reward. L'ultima volta abbiamo viaggiato su una zattera sopra la lava più di una volta, la seconda era off screen per prendere l'uscita segreta che era talmente ovvia che non mi andava di rifare mezzo livello solo per mostrarla, nel senso che era lì, la si vedeva. Ho fatto lo switch che era pateticamente facile e Clouds and Balloons che era sorprendentemente complesso. Oggi... Arid Desert. Devo aspettarmi il vento? Oh, il flood. Dobbiamo prendere la freccia in su, stando attenti a non finire l'acqua, per attivare il flood. Alla Super Mario Sunshine. Ah, eccolo là. Ok, il contattore dell'acqua è di fianco alle vite, quello là col 25. Ok, questo si può combinare qualcosa. Coraggio, cadi. Oh, cazzo! Ok, non è divertente. Ok, è una cosa stranissima. Cadi! Oh, non devo andare lì dentro, no! No, non ho neanche salvato. Mi sono andato nel panico, c'è il pesce in mezzo alle balle. Per favore! Ok, sto livello è difficile. Il flood sembra trascinarmi giù più velocemente del solito. È una cosa stranissima. Salta quando ti dico di farlo! Mamma mia! Ok, lì devo entrare. Che si fa? Il problema è che dovevo aspettare... Oh, Gesù! Ok, è una cosa stranissima. Fantastico. Please! Questo è il salto più bastardo che abbiamo mai visto. Con il flood. Aiuto. Non è un salto più bastardo che abbiamo mai visto. Non è un salto più bastardo che abbiamo mai visto. Non è un salto più bastardo che abbiamo mai visto. Non è un salto più bastardo che abbiamo mai visto. Mi devo prendere il guscio così? Beh, questo non sarà divertente. Ok. Prendilo! Ok. Spero non mi serva per fare altro qua. Uff! No. Sono entrato direttamente nel buco sbagliato. Ok. Oh, Gesù! Con calma. Sali nel buco giusto! Mi chiedo se... Beh, sì, ma... Non so se serve a qualcosa. Devo entrare in quello specchio d'acqua, lì. Che non è così complesso, dai! Ok, devo afferrare questo guscio qua. E quello lì? Lo so, mi sta per finire. Sì, e servirebbe... Servirebbe molta acqua avanzata per quella luna. E ci sta, immagino. Che brutto livello. Oh, questo è quello con le talpe grosse. C'è le talpe... Quindi... Sono le talpe con gli occhiali da sole. Ok. Vediamo. Quali blocchi speciali? Oh, quelli lì. Ok. Bravo, statene lì. Eh, non è complessissimo per ora, ma... Eh. Uh, riesco a vedere dov'è la difficoltà. Ok. Che questi hanno hitbox solo quando hanno voglia. C'hanno più hitbox davanti che dietro. Che non è il massimo, ma... Ce ne sono due, allora. Eh, non così, però. Falle rimbalzare prima. Non in quel modo. Non so se devo saltare su quella sopra o su quella sotto. Scopriamolo. Ok, devo chiaramente... Au. Giusto in tempo. Sì, infatti, perché dovevo portarla sin là. Ok. Avrei potuto risettare lì. Oh. Ok. Non sembrava così stretto. Però... Era stretto, invece. Oh, dai, è la cosa più strana. Oh, cazzo. Eh, per favore. È che vado a sbattere. Oh, là. Stato quella volta non sono andato a sbattere. Quello era un nero. Ok. Sono clipato attraverso il blocco. Sempre uno spasso. Tanto l'ho presa. Io non prendo quel coso. Non ho voglia di crepare. Ok. Bisogna... Tenere sotto controllo lo schermo. Per lo più. Certo, mancalo. Ben'idea. Oh, cos'è? Oh. Se mi afferrasse blocco... Serve bello. Però non lo afferra. Perché mi sono il peggiore di posti. Dai. Sono messo malissimo. Ok, sì. No, Gesù. Che schifo. Ok. Un'altra cosa stranissima. Si fa c'è con le palle in mezzo. Fantastico. Uh. Ah, no. Calma, calma, calma. Puoi farlo, puoi farlo. Sì, ma... Non finire il buco. Ok, mi sto alterando. Veramente. Smette di scorrere lo schermo, poi. Devo stare calmo. Ok, calma, calma, calma. Se smette di scorrere lo schermo, non ho mica fretta. Sì, ma scendi. Oh, madonna. Non mi hai avuto tutti questi problemi per una roba del genere. Cavolo! Aha. Eh. Dove ti infili. No, non così. Ok, ho capito. Non riesco a vedere... Sì, probabilmente ti vuoi fermare. Ok. E se non muori. Che ha senso? Però non si vedeva tutto. E non potevo far muovere lo schermo. Che vale. Solo in certi livelli si può muovere lo schermo. Jumpman. Ok. Eh, sarà il caso che mi fermo qui? Questi livelli mi hanno stressato. Perché porco Giuda. Che fatica. Prima il flood. E poi i pulsanti. Troppi autoscroll... Troppi autoscroller in questo mondo, devo dire. Troppi. Beh. Per ora è tutto. Questo era il Let's Rage di Banzai Mirror World. E io sono Shadow Yoshi. Se il video vi è piaciuto, se lo volete vedere di più, lasciate un commento, mettete mi piace o iscrivetevi al mio canale. Detto questo, però abbiamo concluso, meno male. E ci vediamo, come sempre, in un prossimo video. Bella! Ciao!